Lirio Abate, riprendiamo quello che diceva il direttore Fontana, possiamo sostanzialmente parlare, viene in mente adesso, quindi dimmi se si sbaglia, di una sorta di mafia della prima repubblica, una mafia che aveva un suo stile, aveva dei suoi canoni, la morte di Messina Denaro in qualche modo forse segna la fine, non lo so, di un modello mafioso, ma oggi c'è dell'altro da combattere, c'è un oggi e un domani anche per la mafia? Sì sì, ma c'è sempre stata nei decenni, ha cambiato pelle, ha cambiato strategia tante volte e qui la morte di Messina Denaro farà cambiare ancora una volta cosa nostra, intanto la morte di Messina Denaro segna la fine di fatto anche dell'ultimo libero stragista che c'era, che apparteneva ai corleonesi, quella mafia corleonese stragista, terroristica che faceva capo Ariina con Messina Denaro svanisce, non c'è più nessuno in circolazione che possa continuare quell'opera lì, c'è invece e c'era questa figura dominante, pesante di Messina Denaro che non era il capo di cosa nostra ma che ostacolava uno sviluppo di questa organizzazione criminale per come avrebbero voluto, cioè sulle antiche e vecchie tradizioni con nuovi personaggi in una mafia che appunto, come diceva Luciano Fontana, si infiltra nell'economia legale, nella politica comunale.